In rete un'età, da Ripa Tranzone a Toribiceno, Varechina Loretana. Un applauso! Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginare. Navi da combattimento in fiamme all'arco dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B valenare nel buio vicino alle porte di Tannhose. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo. Come lacrime nella pioggia. È tempo di morire. Varsame la palco. Volto a tevar. Varsame la palco. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.